Per un lungo periodo nella mia vita non ho più potuto mangiare le melanzane perché da un certo punto in poi mi davano delle reazioni allergiche abbastanza pesanti e mi si chiudeva la gola, mi pizzicava la bocca e quindi ho smesso di mangiarle anche se ogni tanto poi riprovavo a vedere se la cosa era passata convinta che come erano venute così se ne sarebbe andata Finché un mese e mezzo fa circa ero a pranzo, avevo Gabriele Policardo di fianco a me e mi ha offerto delle melanzane e gli ho spiegato la situazione e lui mi ha colto un po' il soprassalto perché mi dice che probabilmente era un fidanzatino estivo e mi ha colpito nel profondo questa cosa Rientrati a lezione abbiamo guardato con una costellazione questa cosa e mi emoziono ancora un po' perché siamo andati indietro nel tempo finché non abbiamo trovato a chi corrispondeva questo sintomo, questa allergia ed era appunto un fidanzatino estivo di molti molti anni fa il mio primo fidanzatino e io l'avevo accantonato e le melanzane me lo ricordavano ogni volta le melanzane erano quel ricordo lì perché dopo il Luna Park andavamo sempre a mangiare la pizza con le melanzane per cui ho ritrovato il nome, ho ritrovato l'emozione e il sintomo è scomparso me ne sono accorta dopo un po' perché ho rimangiato le melanzane e ora le posso mangiare tranquillamente ho rimesso Alberto nel mio cuore e le melanzane non hanno più bisogno di ricordarmelo e ora sto bene e le posso mangiare tranquillamente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti